Questa mattina la presentazione del progetto Montagna Molise, un'iniziativa volta allo sviluppo dei comprensori sciistici e sportivi di Campi Teromatese e Capracotta. La regione in merito ha stanziato 900 mila euro affidando la gestione dell'intervento a Funivie Molise che già opera da un anno sugli impianti sciistici. Si riaccendono i riflettori sulla montagna molisana. Il progetto che oggi presenteremo va nel verso giusto, nel senso che va nella promozione di Campitello, di Capracotta, quindi vogliamo una promozione del nostro territorio da vivere a 360 gradi e per tutto il periodo dell'anno, cioè per tutto l'anno, quindi non solo inverno ma anche estate. I risultati della stagione invernale sono incoraggianti perché abbiamo avuto delle presenze notevoli anche forse oltre quello che avevamo previsto e naturalmente speriamo di fare altrettanto con questi eventi che organizzeremo per l'estate. Era stato un po' sottovalutato il ruolo di Funivie, adesso stiamo lavorando per recuperare quello che non è stato fatto e che naturalmente stiamo operando su tutti i settori. Prima dell'inverno abbiamo proceduto alla manutenzione degli impianti che era importante perché senza gli impianti in regola non potevamo aprire la stazione sciistica. Adesso ci stiamo preoccupando, quindi apposto le basi, adesso cerchiamo di crescere, quindi stiamo facendo delle iniziative per crescere e per dare il giusto peso a Campitello e anche a Capracotta.